Buongiorno a tutti e bentrovati nel canale ArtiAllegra. Sono lieta che i miei attacchi d'arte vi stimolino ed è per questo che ho avuto l'idea di fare il primo concorso di presepi del mio canale appunto. Il tema di questo concorso è libero, questo vuol dire che ognuno di voi potrà fare qualsiasi presepe che preferisce. Il contest ha inizio da oggi 5 novembre e si concluderà il 25 di dicembre giorno di Natale. Il 6 di gennaio io durante un video proclamerò i nomi dei tre vincitori. Le modalità per partecipare a questo contest che è libero sono le seguenti dovrete inviarmi tre foto all'indirizzo email che vedete ma che comunque troverete anche in descrizione. La prima foto dovrà essere del vostro lavoro visto davanti, la seconda foto dovrà essere vista da dietro e la terza foto sarà del vostro lavoro vista lateralmente. Dovete anche fare una piccola descrizione del vostro lavoro e soprattutto il messaggio che volete dare. Ma come per ogni gara ci sono dei premi e sono tre oggetti in ceramica che ho realizzato appositamente in questi giorni proprio per questo contest. Al terzo classificato andrà questo braccialetto. Al secondo classificato invece andranno questi orecchini e infine al primo classificato andrà sempre un braccialetto. Come ho detto sono oggetti in ceramica che io stessa ho realizzato appositamente proprio per questo contest. Comunque un attestato di partecipazione andrà a tutti coloro che partecipano al contest stesso. Io lo invierò a ciascuno nel proprio indirizzo email. Questo ovviamente è un facsimile. Dunque a questo punto a me non rimane che dirvi buon lavoro. In bocca al lupo ma soprattutto buon attacco d'arte a tutti. Ciao e una buona giornata a tutti.